salve a tutti niconisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale è un po' di tempo che non faccio video e mi scuso con voi per questo sono ritornato da adesso dovrei riuscire a fare un video a settimana come facevo prima o al massimo un video ogni settimana e mezzo quindi insomma dovremo cavarcela la settimana prossima quella che sta per iniziare dovrebbe essere presentata la Z9 ma oggi vi faccio vedere alcuni video e alcune rumors che ci sono stati su questa nuova fotocamera il primo rumor se lo avete già visto in questa copertina torna indietro un attimo ed è il fatto che ha finalmente un monitor orientabile in questo modo ve lo fa vedere in un tempo brevissimo ecco nel modo che serve a noi fotografi cioè si può ruotare verso l'alto in modo che quando si è in verticale si può ruotare il monitor questa cosa è comodissima è utilissima e secondo me questo è il modo giusto di fare un monitor per un fotografo mentre quel tipo di monitor che si gira nell'altro senso l'ho già detto mille volte quello che si ruota completamente e va verso l'esterno secondo me è estremamente scomodo per chi fa fotografia questo secondo me è il tipo giusto ovviamente si può orientare anche nell'altro senso e si vede in questa immagine qua quindi benvenga il nuovo monitor della Z9 questa è una ottima cosa se poi andiamo sul sito Nikon USA ci sono altri due trailer che sono questi che vi mostro qua adesso allora vedete qui c'è una donna che va a fare fotografie in un posto penso Africa quello che si vede è, adesso dovrebbe arrivare il dettaglio, eccolo qui è che per esempio questo video dura 29 minuti ed è in 4320p quindi in 8K se andiamo avanti vedete che comunque fa anche 37 minuti, fa 59 minuti qui addirittura fa più di un'ora questo cosa vuol dire? vuol dire che la macchina è in grado di registrare per tempi lunghi in 8K e questa cosa è a dir poco inedita, altre fotocamere non fanno questa cosa Canon ha avuto problemi di surriscaldamento con la R5, adesso dicono parzialmente risolti comunque la Z9 fa vedere questa cosa come dire noi l'abbiamo fatta, la nostra macchina gira per più di un'ora in 8K senza problemi e questa secondo me è una di quelle caratteristiche che potrebbero davvero far cambiare l'idea al pubblico e non dire più ah Nikon è indietro sui video, quando in realtà non è che sia poi così vero che sia indietro sui video all'uscita RAV nelle fotocamere Z6 e Z7 quindi insomma direi che non è poi così indietro però mi immagino che su questa ci sia una registrazione interna in RAW per il 4K mi aspetto io, per l'8K mi aspetto che sia esterna in RAW e non in RAW interna staremo a vedere ma mi aspetto grandi grandi sorprese da questa macchina perché qui ci hanno investito davvero tanti soldi terzo trailer che è uscito è questo e si vede un autofocus a dir poco incredibile che segue il soggetto in un modo fluidissimo e mi auguro che questo tipo di algoritmo sia poi implementato anche su altre macchine come quella che ho io, la Z7 e 2 anche se non so se avrà la potenza di calcolo per fare questo per utilizzare questo algoritmo che userà la Z9 però da quello che si vede in queste immagini è semplicemente pazzesco dovrebbe scattare con una cadenza di 20 frame al secondo ne parla anche Nikon Rumors in questo comunicato parla di 20 frame al secondo, qualcuno diceva 30 20 mi sembra abbastanza plausibile e si parla di un 120 frame al secondo in modalità crop DX a 11 megapixel che può sembrare una cosa inutile e forse lo è però sicuramente per dare una stoccata alla concorrenza può essere interessante questa cosa poi immagino che qualcuno potrebbe trovare interessanti 120 frame al secondo lo sapete cosa ne penso io di avere tanti fps vabbè, comunque c'è una funzione che c'è a me sinceramente non interessa già 20, secondo me sono troppi però magari qualcuno servono il sensore dovrebbe essere da 45 megapixel e dovrebbe essere di tipo stacked quindi un sensore che contiene al suo interno per farla breve, una memoria che quindi è in grado di aumentare la velocità di lettura del sensore stesso e quindi poi di avere un minore rolling shutter o comunque vicino a zero e un'uscita di dati molto più veloce quindi appunto per mettere framerate più elevati framerate elevati che servono sicuramente per le raffiche e per i video in 8k perché comunque per uscire in 8k sono file molto pesanti anche se comunque le fotografie pesano sempre di più dei video parla di no rolling shutter io non ci credo che sia proprio no immagino che sia pochissimo dice meglio della Sony A1 e lo spero bene perché la Sony A1 comunque rolling shutter ne ha e della Canon R3 che sinceramente non ho visto i risultati ma immagino che sia una buona macchina sinceramente non so come va però se è meglio della A1 beh lo spero perché la A1 non è che sia così perfetta come rolling shutter poi vabbè ci si può accontentare però sapete che non sono proprio del parere di quelli che si devono accontentare parla di mirino senza blackout circa 5 megapixel c'è chi invece dice 9 ho letto una recensione di un americano che parlava di Nikon e di Sony mi pare forse anche Canon comunque parlava di vari mirrorless e diceva non dovete guardare solo i megapixel del mirino perché diceva che per esempio un mirino che aveva provato di una Sony da mi pare 5 megapixel che diceva in questa recensione secondo lui si vedeva peggio rispetto al 3,6 delle Nikon perché diceva perché poi le lenti che ci sono davanti sono migliori quelle che ha messo Nikon in quel caso lì non parlava del 9 megapixel dell'A1 che io mi immagino che sia bellissimo perché insomma non ci credo che non sia buono perché 9 megapixel deve essere per forza buono comunque qui dicono che non ci sarà il pixel shifting però potrebbe essere implementato in seguito ma a me sembra strano siccome potrebbero già metterlo subito per fare subito la botta e dare fuori tutte le funzioni 8K 60p a me sembra tantissimo non ho guardato effettivamente in quel trailer se dava 60p dava 60p ragazzi andiamola a vedere no qui dava 30p infatti secondo me sarà 30p 60p in 8K mi sembra un'assurdità però vedremo se ci sarà e il prezzo dice che sarà più basso della D6 quindi se è davvero così ne venderanno una fracca perché è vero che comunque sono tanti soldi però una macchina con queste prestazioni o meglio con le prestazioni che stanno cercando di farci capire che avrà a quel prezzo lì potrebbe essere davvero molto molto interessante quindi poi beh caratteristiche di peso qui parlano di un chilo però beh è plausibile un chilo però insomma non stiamo a vedere queste cose insomma ci aspetta una gran macchina si parla anche di GPS integrato voi lo sapete io sono pro GPS integrato secondo me il GPS dovrebbe essere integrato sempre su tutte le macchine per legge perché è comodissimo per avere l'ora corretta in modo che tutte le foto di tutte le macchine che hai sono sincronizzate perfettamente quando lavori con più macchine però non vogliono capirla di metterlo e anche la Z6 T2 che ho e la D850 possono usare il GPS tramite l'app del cellulare ma non posso collegare allo stesso cellulare entrambe le macchine contemporaneamente e questa cosa mi dà abbastanza i nervi finalmente hanno capito forse che bisogna inserire questo cavolo di GPS nella macchina fotografica altre cose vabbè la batteria dovrebbe essere la stessa della D6 però c'è anche una batteria nuova insomma ci sono varie caratteristiche ma non stiamo troppo a perdere tempo andiamo avanti in questo Nikon News che è un nuovo format che ho buttato fuori oggi perché ho visto che in questa settimana è uscito un fracco di robe allora ho detto ma perché non facciamo un Nikon News allora 18-140 di X per Z obiettivo secondo me molto interessante per chi vuole prendersi una Z afficarci un obiettivo e tenere quello lì quindi una Z50 o una ZFC questo obiettivo è molto molto piccolo guardatelo cioè praticamente il barilotto è poco più lungo di quanto è larga la baionetta quindi è davvero molto compatto più piccolo del 18-105 che si conosce per reflex la luminosità ovviamente non è elevata 3.5-6.3 ma è ovvio su questi obiettivi qui non sono mai luminosi Nikon ci ha abituato ultimamente a fare obiettivi così tipo non so il 24-200 che ne parlano tutti bene che ha un'ottima qualità però a 200-6.3 è buio ok però se la qualità c'è per l'utilizzo di giorno secondo me può andare bene di sicuro non è un obiettivo professionale con questa luminosità questo è poco ma sicuro qui parla di zoom 7.8 per ovviamente la sua escursione focale VR con 5 stop quindi il VR è integrato nell'ottica cosa sicuramente ottima funziona molto molto meglio il VR negli obiettivi rispetto a quello sul sensore quello sul sensore funziona molto bene nei video dà una mano con i tempi molto lenti però con i tempi medio-veloci il VR classico funziona meglio poi con i tempi molto veloci si disattiva tutto bisogna disattivare tutto ma è sempre meglio compatto e leggero ok qualità Z va bene ovviamente un obiettivo molto versatile perché è un 18-140 siamo già abituati a vederlo perché esiste anche per reflex è costruito sicuramente meglio di quello per reflex almeno a vederlo così nelle fotografie le foto sembrano anche belle arriva quasi in macro diciamo non macro ma abbastanza vicino una cosa che come sempre mi fa storcere il naso è vedere che negli accessori inclusi non c'è il paraluce e è una cosa secondo me assurda datemi il paraluce con tutti gli obiettivi non comprerò questo obiettivo perché non ho una adx però mettete sto cavolo di paraluce che senso ha non metterlo costa 5 euro ovviamente per duro forse anzi sicuramente meno caratteristiche tecniche dell'ottica vabbè 18-140 diaframma massimo da 22 a 40 potevano anche limitarlo da 22 a 22 vabbè 40 13 elementi 17 elementi in 13 gruppi inclusi due elementi ed che sono abbastanza comuni nelle ottiche zoom e due elementi asferici ormai lenti asferiche nikon le sta mettendo ovunque e questo sicuramente è un buon segno perché con le lenti asferiche si riducono molto le aberrazioni e si migliora tantissimo la resa ai bordi quindi bene così mi aspetto ottime prestazioni da questo obiettivo che è indubbiamente buio la stabilizzazione di questo obiettivo funziona in un modo ibrido in pratica c'è il VR e anche un decentramento ottico attuato da due motori e questo permette di arrivare a questi 5 stop di stabilizzazione cosa decisamente interessante tecnologia che non avevo mai visto su obiettivi o meglio non avevo mai visto che era specificato che funzionava in questo modo però vabbè bene che ci sia scopriremo poi sul campo se effettivamente funziona perché poi tutti questi dati tecnici meglio vedere sul campo come va peso record 315 grammi non pesa niente questo obiettivo è veramente pazzesco quindi io lo posso consigliare a chi vuole un'unica ottica per fotografare un po' tutto quanto di sicuro non lo consiglio a chi vuole ottiche super luminose e di chi vuole fare i mega sfocatoni perché non è di sicuro l'obiettivo adatto a quel tipo di attività altre cose interessantissime uscite questa settimana secondo me sono forse lo vediamo da Nikon Rumors i Voiglander Aposcoper 90 mm f2.8 che sono usciti con baionetta F e con baionetta M per Leica interessantissimo che si è uscito un nuovo obiettivo anzi due perché in realtà c'è la versione tutta nera e la versione col bordino cromato in realtà è uno solo sono usciti nuovi obiettivi manual focus purtroppo peccato che non sia un autofocus con la baionetta F quindi chi diceva ah è morto tutto il mercato delle reflex beh no non è poi così morto vi farei notare quanto è incredibilmente piccolo questo 90 mm il suo prezzo non è proprio a buon mercato qua vediamo i prezzi sia per la versione con attacco M 799 dollari e 699 per la versione con l'attacco F anche qui fa storcere il naso che cosa che il paraluce peraltro microscopico me lo vendono a 58 dollari venduto a parte mi sembra un po' una presa per il fondello bello che sia quello super compatto non so quanto sia efficace questo tipo di paraluce ricorda un po' il paraluce del 45 mm AIP di Nikon però non so quanto sia efficace questo tipo di paraluce comunque non lo so bene che escano nuovi obiettivi peraltro sembrano degli obiettivi AI-IS insomma e del resto sono degli obiettivi AI-IS o meglio sono degli AI-P perché hanno i contatti quindi sono proprio come il 45 F2.8 che è un AI-P quindi può connettersi o anche il 1200 1700 mm che sono gli unici due appunto AI-P di Nikon altra novità sono i nuovi firmware della Z7-2 e della Z6-2 non ho ancora fatto l'aggiornamento non ho ben capito cosa cambia sono andato a vedere nelle informazioni che ci dà Nikon sul sito ufficiale italiano qua ho guardato per la Z7 perché è la mia però Z6-2 è la stessa cosa e dice per esempio le voci regolazione impressione ritratto sono state aggiunte al menu ripresa foto e al menu ripresa filmato sinceramente non so cosa sia questa voce aggiungerò il firmware e vi farò sapere che diavolo sono non lo so cosa sono poi ci sono altri miglioramenti per quello che riguarda la visualizzazione a monitor in determinate situazioni e piccole correzioni e sono problemi che sono stati risolti niente di grande niente di super importante però bene così c'è un aggiornamento firmware per il Z7-2 e il Z6-2 altra notizia della settimana che guardiamo comunque sempre da anni con rumors perché è comodo per vedere queste cose in realtà io le vedo anche su altri siti che ne giro parecchi però loro sono quelli che mi mettono il titolone e mi va bene per farvelo vedere il Nikkor 58mm F095S il Noct ha vinto il premio come miglior obiettivo mai provato da VXO Mark questa cosa è veramente pazzesca non è pazzesco il fatto che Nikkor abbia fatto un obiettivo che ha vinto il premio è il migliore di quelli testati da VXO la cosa incredibile è che sia questo obiettivo che ha vinto perché questo è un F095 un obiettivo super luminoso e solitamente super luminosi hanno una qualità abbastanza scadente per non dirla in altro modo ancora peggiore perché a tutta apertura sono molto 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 morbidi il Leica 50-095 che costa 12.000 euro è estremamente più morbido di questo cioè a confronto anzi non c'è neanche da fare confronto con questo questo è nettamente superiore come qualità è anche molto più grande e molto più recente anche come idea e come costruzione è molto più recente sofisticatissimo e tutto quanto costa 8.000 euro questo giocattolino qui è manual focus pesa circa 2 kg però la qualità c'è tutta se volete lo sfocato questo è l'obiettivo da comprare ovviamente secondo me è assolutamente consigliato utilizzarlo su una Z7 o Z7 II perché non vale la pena di utilizzare un'ottica del genere su una macchina con pochi megapixel questo qui è estremamente nitido lavora molto bene anche a tutta apertura secondo me merita tanti megapixel e soprattutto merita un sensore senza filtro low pass quindi secondo me questa è un'ottica veramente top non è solo secondo me è anche secondo Dixo io ho visto le foto tempo fa di come erano i risultati con questa ottica e mi ero fatto una mia idea ossia che era un obiettivo eccezionale ora abbiamo la conferma è un obiettivo eccezionale chiaro non è per tutti più che altro perché costa caro altra news sempre da Nikon Rumors ma che si trova anche su siti cinesi ho girato varie cose poi dopo ho detto ma perché non vado a cercarlo su Nikon Rumors e in effetti c'era anche su Nikon Rumors e in pratica verranno presentati due nuovi obiettivi della serie S di Nikon Z e sono il 400 mm f 2.8 che uscirà non si sa quando ma nel prossimo futuro teoricamente ne verrà annunciato secondo Nikon Rumors lo sviluppo la prossima settimana mentre settimana prossima assieme alla Z9 dovrebbe essere presentato il 100-400-4.5-5.6 che è un obiettivo che se sarà di qualità e non avrà un costo esagerato potrebbe diventare molto interessante per tante persone perché parte da 100 mm quindi magari nello sport partendo da 100 arrivando a 400 mi immagino tipo al calcio quindi sport all'aperto dove avere un 5.6 non è un problema potrebbe essere molto interessante e anche calcio fotografica con distanze abbastanza brevi insomma 400 è già un buon tele e si riescono a fare tante cose vedremo come va e soprattutto vedremo quanto costa perché se costa tantissimo chiaramente perde un po' il senso un obiettivo così mi aspetto io che assieme alla Z9 venga presentato anche qualche altro tele magari fisso però Nikon Rumors non ne parla a me piacerebbe vedere soprattutto assieme alla Z9 per dire un 300 f2.8 che è un po' un must per la fotografia sportiva tantissimi di quelli che fanno fotografia sportiva dal calcio al ciclismo al basket a qualsiasi altro sport il 300 f2.8 ce l'hanno perché in tante condizioni fa veramente la differenza mi fa strano che visto che è un cavallo di battaglia sia di Nikon che di Canon il 300 f2.8 mi fa strano che non venga presentato siamo una macchina per sport come la Z9 però insomma dovrebbe uscire questo 100-400 accontentiamoci di questa nuova uscita peraltro nella roadmap vi farei vedere che c'è un 85mm S bello cicciotto che mi immagino che sia un 1.2 quindi molto interessante su un sito cinese mi pare che ho guardato si parlava di un brevetto di un 35-70 f1.2 per Z quello anche sarebbe estremamente interessante per ora non se ne sa niente non ho capito come fare a tradurre quel cavolo di cinese su quel sito e quindi poi non lo sono neanche salvato in realtà però ho letto di questo rumor e potrebbe esserci un'uscita anche di quell'obiettivo lì anche se comunque vi dirò mi spaventa molto il prezzo che potrebbe avere un'ottica del genere direi che con questo è tutto vi ho fatto un po' una carrellata su quelle che sono state le novità della settimana settimana prossima teoricamente sarò qui a mostrarvi la Z9 spero in diretta così magari riesco a parlare con voi e vediamo anche le impressioni che avete su questa nuova macchina vediamo come sarà ma io mi immagino che sia qualcosa di straordinario perché altrimenti non avrebbero aspettato così tanto a far uscire non avrebbero fatto tutti questi videotaser insomma mi aspetto qualcosa di veramente eccezionale una tra virgolette rivoluzione tra le fotocamere professionali di Nikon e probabilmente finalmente vedremo una mirrorless fatta a regola d'arte da un produttore che sa cosa vogliono i professionisti soprattutto quelli che fanno fotografia sportiva grazie a tutti come sempre per aver seguito il video vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirci anche su facebook e niente basta così arrivederci alla prossima grazie a tutti